Un saluto a tutti e buon mercato a tutti in questa settimana davvero unica, dal turno di Champions League al derby di Milano e tutte le big in grande evidenza perché la Juventus dopo i tre mori in campionato si è qualificata in Champions League per gli ottavi, mentre l'Inter è ormai un passo dalla qualificazione, l'Atalanta ha il destino nelle sue mani, solo il Milan è appeso a un filo ed è un peccato perché la squadra di Pioli evidentemente sta superando tutte le attese e in queste ore ci sono dei movimenti importanti soprattutto sul fronte dei rinnovi per giocatori importantissimi. Mi riferisco a Franchesi per il Milan, a Marcello Brozovic per l'Inter e a Paolo Di Bala per la Juventus. Vediamo quindi nei dettagli cosa sta accadendo. Partiamo dalle parole di Paolo Maldini che proprio nella vigilia della partita col porto ha lanciato un messaggio, ha ammesso che c'è un appuntamento con Giorgia Tangana, l'agente del Presidente e questa è una notizia che va letta con attenzione perché gli ultimi segnali erano davvero negativi e ormai gli indizi che volevano Franchesi al Tottenham erano concomitanti e tutti molto attendibili. Aggiungiamoci poi che l'arrivo di Conte in casa Ospur evidentemente fa aumentare l'appeal del club londinese, però c'era quella distanza fra 6-8 milioni nell'offerta milanista e quella dell'Ivoriano. Vedremo se effettivamente questa uscita di Maldini prelude a un avvicinamento clamoroso o se invece è solo un ultimo tentativo di brammatica. In ogni caso, in casa milanista c'è un'altra notizia che riempie di gioia i tifosi e sono questi segnali su Slatano Ibrahimovic, protagonista a Roma e ritrovato come meglio non si potesse aspettare. Lui guarda il Mondiale, è stato appena convocato dalla nazionale svedese e non è un mistero che per poter arrivare a questo appuntamento storico deve guardare un rinnovo anche con il Milan. Evidentemente ciò comporta un prolungamento sino al 2023, vale a dire, sino a 42 anni, una storia infinita, una storia da numero uno. E veniamo alle vicende in casa Inter. Ausilio nel pregara con lo Sheriff ha auspicato un rinnovo di Brozovic in particolare e guarda caso il Croato è stato il migliore in campo e a fine gara ha usato parole anche che lasciano la speranza a un avvicinamento perché sinora suo padre e il suo avvocato hanno dribblato le offerte delle azzurre. Vedremo se c'è una svolta in positivo perché chiaramente Brozovic è un punto fermo della squadra di Inzaghi. Tra l'altro in via della liberazione in queste settimane ci sono stati dei passaggi importanti perché ha appena rinnovato Lautaro Martinez e questo è un passo sicuramente emblematico. Nonostante per l'attaccante argentino adesso siano all'orizzonte delle ombre nei rapporti economici con i suoi vecchi agenti ma questi sono passaggi di secondo piano perché a Marotta Ausilio importa peraltro l'altro messaggio molto incoraggiante di Nicolo Barella. Anche per lui c'è un accordo ormai raggiunto per cinque anni e con una dimostrazione di buona volontà del centrocampista sardo che avrà un aumento a 4 milioni ma poi si accontenta di salire ulteriormente fra due anni. È una prova di attaccamento che dimostra come in questi mesi l'Inter abbia superato momenti difficili proprio perché c'è anche un ambiente all'interno della squadra davvero positivo. Sul fronte rinnovi poi occhio anche al futuro di Marco che si sta mettendo in luce e lui è in scadenza nel 2023 e guadagna solo 600.000 euro. È ragionevole che la società gli riconosca quello che sta facendo bene sul campo. Insomma è un Inter che peraltro ha ritrovato anche Sanchez e Vidal, i cileni che nella gestione Conte erano mancati all'appello e questo dimostra come forse a gennaio l'Inter arriva più forte al mercato perché ha la forza anche per non cambiare nulla, almeno questa è la versione che dà ausilio. Però stiamo in campana perché la voglia di vincere è tanta e anche la voglia di rinforzarsi. Alla Juve è davvero un periodo strambo perché tutto il brutto che abbiamo visto in campionato diventa splendente in Champions League a cominciare da quel Paolo Dybala che è diventato protagonista in campo dopo mesi di insofferenze legate agli infortuni e c'è quel contratto ancora da sottoscrivere. Sembra una vicenda un po' comica perché di questa intesa con questi bonus che nel giro di un anno possono diventare un vero aumento di stipendio, ne abbiamo parlato da tempo, però manca ancora un piccolo dettaglio per cui gli avvocati sono al lavoro, c'è ottimismo, l'impressione che alla fine questo rinnovo arriverà se non entro una settimana, entro novembre sicuramente e questo è un messaggio positivo a tutto l'ambiente considerando che comunque il mercato di gennaio vedrà i bianconeri protagonisti e sotto questo profilo è interessantissima la partita con la Fiorentina con Dusan Vlaovic che sbarca all'Allianz. Come verrà accolto? C'è tanta attenzione su di lui perché i viola lo contestano proprio perché lo accusano di fare l'occhiolino ai bianconeri. In realtà gli approcci ci sono stati, c'è stata una richiesta di 6 milioni per l'ingaggio mentre la Fiorentina valuta il suo gioiello fra i 60 e i 70 milioni, c'è di mezzo anche il Tottenham che ha avuto un incontro proprio con la dirigenza di commisso, insomma è una vicenda intricata, però la Juventus è molto attiva perché evidentemente un centravanti serve e Vlaovic è uno dei migliori in circolazione. Poi sullo sfondo c'è un'altra lusinga, quella per l'estate, Paul Paul Ba, il francese vuol tornare alla Juventus, ha parlato chiaro con Raiola e ci sono stati dei contatti si sono profigui perché arrivi a scadenza a luglio, vedremo se sarà possibile questo colpo. Di sicuro Paul Ba ha votato Juve e questo è un elemento di fiducia anche per il futuro, per una squadra che deve cambiare ancora pelle e deve puntare comunque sui giovani perché Allegri ha avuto questo mandato da Agnelli e sta cercando tra alti e bassi di portarlo a termine.